Uscito da Marsilio, Luca Zaia, ragioniamoci sopra dalla pandemia all'autonomia. Ma queste conferenze stampa a un certo punto ci ha preso gusto però, perché all'inizio erano drammatiche, bisognava dare i costi, dopodiché insomma... Beh ci sono state giornate felici, altre giornate anche poi sul finire, penso all'autunno-inverno 2020 che sono state pesanti, avevano giornate con 200 morti, 150 morti al giorno. Per cui si sono alternati... Solo nel Veneto? Eh sì, solo nel Veneto. Noi abbiamo avuto in totale quasi 12.000 morti, siamo l'ottava regione in Italia e siamo quella che ha avuto meno morti tra le più colpite, ma comunque ce l'abbiamo avuta e le mortalità. Qual è stata la conferenza stampa peggiore, quella più drammatica? Direi sul finire di dicembre quando comunque si sentiva tantissimo la pressione, anche perché abbiamo fatto una prima ondata con una gestione diciamo assolutamente buona, Diciamo i risultati ci sono stati, abbiamo passato una bella estate 2020, poi è arrivato l'ottunno-inverno, da noi ha pestato molto il virus, poi contrariamente, dal resto il virus si è sempre abituato a cambi di scenario, è iniziato il 2021, da noi è calata la pressione ed è salita a noi confinanti che prima non avevano avuto problemi. Penso all'Emilia Romagna che in quella primavera 2021 di quest'anno chiedeva ad esempio ospitalità per le terapie intensive, quindi è abbastanza inspiegabile come questo virus evolva di mese in mese, di stagione in stagione. Voh? Voh è stata la prima, è diventata famosa perché ha avuto il primo caso di positività di un cittadino, il signor Trevisano. 21 febbraio. 21 febbraio 2020 che è stato il primo morto in Italia dal coronavirus. Con voi inizia l'incubo, con quel 21 febbraio inizia l'incubo, iniziano le giornate dure nelle quali tutti noi avevamo paura di morire, non avevamo le istruzioni per l'uso. Ma allora era già chiaro per lei almeno la diffusione del virus? No, noi avevamo... Perché all'inizio era un po' così. Non c'erano le istruzioni per l'uso, non si sapeva nulla. Noi avevamo solo un vantaggio, che c'eravamo esercitati, come facevamo di solito per altre pandemie che poi non sono mai arrivate. Sono West Nile, la SARS, l'H1N1, insomma tutto quello che è, la viaria, e invece questa volta il Covid è arrivato. Cioè avevate già la struttura predisposta ad affrontare la pandemia. Anche ha aggiornato il piano pandemico in base alle direttive. Il problema è che la macchia di Leopardo poi si è diffuso in tutto il Veneto e da lì poi abbiamo vissuto subito la tragedia del lockdown. Quindi dal 21 febbraio si va all'8 marzo con l'inizio del lockdown. Ecco, allora per non tornare al lockdown verranno presi, presumibilmente tra domani e domani la cabina di regia, mi pare che le regioni siano abbastanza favorevoli al super green pass. Lei però è più scettico, cioè soltanto i vaccinati possono andare a cinema, a teatro, alle viste da sci, eccetera. Perché lei è scettico? No, no, io non sono scettico, nel senso che come regione abbiamo fatto tutti, diciamo, le stesse richieste. Probabilmente si riferisce all'obbligatorietà vaccinale. Io ho esposto l'opinione di chi vive in trincea, di chi poi gli deve fare i vaccini, a prescindere dal fatto che c'è già obbligatorietà con il Covid, con i sanitari, e non tutti i sanitari si vaccinano. Chiedo solo, onde evitare di continuare a parlare di obbligatorietà, che qualcuno mi dica qual è il passaggio successivo. Cioè, se una persona non si vaccina, cosa bisognerà fare? Ce lo dico perché siamo in Italia, mi rifiuto di pensare che si ricorra alla forza pubblica per portare una persona a vaccinarsi. Ma nessuno però sta parlando ancora davvero di obbligo vaccinale. Probabilmente perché io anche ho posto da subito questa questione, che è una questione non irrilevante. Comunque la verità è che il vaccino funziona, l'invito è alla vaccinazione, in un regime di volontarietà. Le do solo il dato del Veneto, l'83% dei nostri ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati, ma rappresentano solo il 15% della popolazione veneta. Quindi abbiamo una possibilità di almeno 6 volte in più di infettarci, di 8 volte in più di essere ricoverati se non siamo vaccinati. Mi spiace che qualcuno lo prenda come il solito muro contro muro, ma noi abbiamo l'obbligo di dire cittadini. Quindi lei è favorevole alla limitazione per chi ha il tampone, insomma, chi ha il tampone non può entrare, non potrà entrare a quanto pare al ristorante, allo stadio, nelle piste da sci. Guardi, noi in Veneto già, ho visto prima l'immagine di Cortina, delle nostre montagne, abbiamo già predisposto per la stagione invernale, affinché chi fa lo ski pass lo farà ovviamente con il green pass. Questo è il lavoro di base. Dopodiché cercheremo di capire cosa ci proporrà il governo rispetto alla riunione di ieri. Di certo la zona bianca è zona bianca, quindi avrà le regole della zona bianca, che è quella di oggi. La zona gialla introduce delle limitazioni, che sono quelle della mascherina all'aperto, piuttosto che della riduzione dei posti, a sedere i quattro posti al tavolo nei ristoranti. Da lì in su si tratterà di capire quali saranno le decisioni del governo. I governatori hanno proposto di non chiudere, perché la zona arancione già prevederebbe la chiusura dei confini comunali e dei ristoranti, per fare un esempio, e di ovviamente agevolare chi ha fatto una scelta. Quindi il super green pass, secondo le regioni, dovrebbe partire solo dal colore rosso? No. O anche dal giallo? Non sono puntuale nel rispondere, perché abbiamo discusso ieri, abbiamo presentato le nostre posizioni, adesso si tratterà di capire... Ma la vostra posizione è per il giallo, che è quello sul quale prima o poi si rischia di cascare... Ieri oggettivamente non si è parlato di giallo da subito, nel senso che il giallo potrebbe essere un limbo per arrivare alla misura sul super green pass nell'arancione, perché il giallo comunque prevede una restrizione di base che è la mascherina in pubblico e all'aperto, come dicevo. Dobbiamo attendere le decisioni. Però anche quelli con tre vaccinazioni, voglio dire, andrebbero in tavoli non più di quattro persone. Questo è il primo aspetto, nel senso dover poi mutuare queste scelte rispetto all'applicazione delle scelte, perché davanti a un ristorante che resta aperto c'è chi comunque si ritrova che pur essendo vaccinato, magari con le tre dosi, come dice lei, rischia di dover avere il tavolo da quattro, che in via teorica sarebbe un tavolo non da farsi, visto che sono tutti vaccinati. Ma lì non si può fare la doppia, molto all'italiana, ma la doppia misura, cioè se è nel giallo, quelli che hanno soltanto il tampone devono stare molto distanziati, quelli che invece hanno la vaccinazione, eccetera, possono stare un po' complicato. Non sono in grado di dirle cosa ci presenterà il governo, visto che ho considerato che si confronterà... Lei che farebbe? Ma guardi, io intanto eviterei che si andassero a creare, si andasse a creare un muro contro muro, e direi che la soluzione migliore sarebbe che tutti valutassero di vaccinarsi. E poi chiederei al governo di decidersi una volta per tutte di fare una campagna di comunicazione, di informazione. Cioè noi non possiamo lasciare l'informazione... Passiamo tutte le sere a parlare di questo. Sì, ma lo fate voi, ma un'informazione istituzionale, che è quella di una campagna vera e propria, va fatta, visto che considerato che oggi i cittadini spesso attengono a informazione dei social... No, per carità, quelli, quelli... Eh, ma sa, se lei... Da me il 75% dei ragazzi dai 20 ai 29 anni si sono vaccinati. Sono stati dei grandi, hanno fatto... Però devo anche dire che se trova uno di quei ragazzi non vaccinato, le dirà io non mi sono vaccinato è perché ho letto nei social che si diventa steridi. Allora, io penso che noi come istituzione abbiamo l'obbligo di dire queste sono le fake news, queste sono le smentite. Questo non lo si fa. Pure questa è veramente una fake news perché proprio il vostro, professor Palù, mi ha detto che è il padre in qualche modo di una certa analizzazione, no? Che voi avete avuto nella biologia e mi ha detto che hanno fatto delle analisi sugli spermatozoi, per cui non c'è assolutamente nessun tipo di caduta. Ma le ho fatto un esempio di una fake news abbastanza diffusa, ma non le vengo neanche a citare le fake news dell'introduzione del microchip con il vaccino o con il tampone. Vabbè, vabbè, quello fa parte della pazienza. Quando tu protesti e vedo che nessuno porta la mascherina, poi c'è anche una visione negazionista, non è di dire il virus tanto non esiste, il virus comunque è come un'influenza o peggio ancora, si dice e mi metto nei panni delle famiglie che hanno avuto i decessi, non servono agli ospedali, bastava curarli a casa. Il 95% dei pazienti è curato a casa dei nostri 54 mila medici dei nostri 30 mila medici in Veneto. La verità è che poi qualcuno deve avere pure anche l'aiuto dell'ospedale. Bene, allora vediamo con Paola Miletic e Alberto Spalletta la storia di Luca Zaia incrociata con la pandemia. Un amministratore, così si definisce e del resto pochi politici possono vantare un'esperienza a 360 gradi come la sua. Una carriera che comincia a soli 25 anni quando Zaia muove i primi passi come consigliere comunale a Godega di Sant'Urbano nelle liste della Lega Nord e Liga Veneta. A 30, a Treviso, è il più giovane presidente di provincia eletto in Italia. Fra il 2008 e il 2010 la parentesi romana quando diventa ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Berlusconi. Nel 2010 l'insediamento a Palazzo Balbi dove viene riconfermato per un secondo e adesso un terzo mandato voluto dal 76,8% dei cittadini. Anni frenetici che rivivono ora nel suo libro Ragioniamoci Sopra dove racconta prima di tutto le sue radici la sua campagna quell'angolo della marca trevigiana racchiuso fra i fiumi Piave e Livenza e la sua famiglia abituata come tante alla fatica nei campi e ai rischi dell'emigrazione. È lì che cresce il giovane Luca timido e un po' isolato a contatto con la natura e i cicli delle stagioni fra gli amati cavalli il servizio di chierichetto e il lavoro estivo nell'officina meccanica del papà. Lo studio e la laurea in scienza della produzione animale non gli bastano e arriva presto la ricerca dell'autonomia attraverso mille attività organizzatore di eventi e serate istruttore di equitazione collaboratore di aziende agricole tutta esperienza conoscenza della realtà utile per amministrare e anche per affrontare le difficoltà. Attivissimo del resto soffre di insonnia e dorme solo un paio d'ore per notte Zaia è un punto di riferimento anche nelle calamità come la tempesta vaia nel 2018 gli allagamenti a Venezia nel 2019 e naturalmente la sciagura della pandemia il Big Bang come lo chiama lui una prova terribile che lo spinge a prendere provvedimenti drammatici come la chiusura del comune di Vo o impopolari come la cancellazione del carnevale di Venezia una prova complessivamente vinta grazie alla tenuta del sistema sanitario regionale ma anche grazie a decisioni prese dal governatore in assoluta autonomia come quella di sottoporre al tampone l'intera popolazione di Vo contro quelle che erano allora le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e non a caso l'autonomia resta il suo obiettivo come prima e più di prima Beh, io alle due ore di notte di sono per notte non ci credo Le ore sono poche ma tre o quattro al massimo sono e dorme quattro ore Eh sì purtroppo Ah, purtroppo Mi sveglia presto o ha letto tardi? Come funziona? No, mi sveglio presto nel senso che beh, però posso dire che vivo di più nel senso che passo meno tempo a letto Ah certo, assolutamente assolutamente Vabbè, però non mi pesa oggettivamente però non so cosa voglia dire dormire otto ore Eh Io lo posso raccontare io guardi è piacevole Non ho dubbi Senta, ma è vero che durante il lockdown tutti i bambini stavano a casa e guardavano le conferenze stampa sue poi le mandavano i disegnini? Sì, sì è assolutamente vero me ne hanno mandato forse ne abbiamo qualcuno Allora, questo è quasi sembra quasi un presepe insomma, in qualche modo non è E questo è il remake artistico di quello che era la conferenza stampa ne ha fatto 500 di punti stampa alle 12.30 è stata un'occasione per informare quotidianamente i cittadini portando i nostri scienziati c'è venuto il professor Palù ci sono venuti molti e i nostri medici quindi i nostri veneti hanno sempre avuto l'informazione di prima mano penso che questo sia un privilegio che noi abbiamo garantito a loro Senta, Prosec Ma è finita la storia o no? No, è una storia vergognosa me lo lasci dire Eh certo Condivido La spiego anche in poche parole Nel 2009 io ho fatto un decreto da ministro garantendo alle zone a denominazione la possibilità di utilizzare in esclusiva la parola Prosecco Perché c'è un paese che si chiama Prosecco Quindi l'Europa mi ha riconosciuto questa pratica e quindi noi ci siamo agganciati alla figura del paese di Prosecco vicino a Trieste Questo paese fra l'altro nel 1300-1500 si chiamava Prosecco con la K Oggi i croati vogliono una riserva del nome sul nome Prosecco ma ce l'abbiamo già noi E qui non ha nessun senso Poi noi facciamo una doppia battaglia difesa dal nostro prodotto la più grande denominazione al mondo una bottiglia su tre di bollicine del mondo e di Prosecco E dall'altro facciamo una battaglia identitaria per tutti gli altri perché se passa questo principio chiunque può aggredire qualche altro prodotto Assolutamente Senta, Olimpiadi siete pronti? Le Olimpiadi Milano-Cortina sono del 26 che è l'ultimo anno dato per spendere i soldi del PNRR Lei con i suoi 16 miliardi ricordo bene 15 miliardi e 100 Bene Però ne avremo anche di più probabilmente Vabbè, che ci fa? Ma noi ci facciamo un sacco di cose però per rispondere per le Olimpiadi visto che è una mia idea quella di candidare Cortina le dico con soddisfazione glielo annuncio che abbiamo di fatto varato la lista degli investimenti la lista della spesa e quindi a Cortina possiamo garantire che oggi ci sono 300 milioni sul tavolo confermati il progetto definitivo per la variante di Cortina che è la variante che c'è La variante ma la fate sul serio Assolutamente sì Guardi, io non non glielo so dire se si arriverà alla variante inaugurata per le Olimpiadi ma comunque si farà perché abbiamo le risorse e così la variante di Longarone per chi conosce quelle zone altri 280 milioni di euro e poi i collegamenti che vogliamo fare di Cortina con Araba Cortina con il Monte Civetta E finalmente quindi e quindi si crea un carosello Un grande circuito Un'ultima cosa Allora parlare delle due leghe è stucchevole Le voglio chiedere se l'elettorato ha capito che ciascuno gioca la sua partita cioè chissà il governo regionale o nazionale ha delle responsabilità che magari il leader che guarda la politica diciamo da un'altra prospettiva non ha Lei dice bene direttore ognuno fa il suo mestiere no? Chi le parla è un amministratore io ho sempre fatto l'amministrazione ed è giusto che questa lega di lotta e lega di governo si compenitreno poi ed è esattamente questa la vera sfida consideri che noi comunque ci possiamo definire un partito di governo ma non perché siamo al governo oggi anche se non lo fossimo e fossimo all'opposizione un partito che ha un sacco di regioni dove hai i propri governatori oltre 800 sindaci comunque è un partito di governo e comunque ha la responsabilità di portare avanti molte sfide e poi è giusto e logico che il segretario ponga delle questioni anche come elemento di riflessione Grazie Presidente Grazie a lei